Il Parlamento europeo commosso ha reso omaggio alle vittime dell'incidente del Pullman belga. A Strasburgo i deputati hanno osservato un minuto di silenzio. Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo. Se avete dei figli o vi ricordate della relazione con i vostri genitori, ciascuno di voi in questa assemblea può capire che cosa significa mandare i bambini in gita scolastica e veder tornare delle bare.